condizioni di utilizzare un altro vettore che non sia appunto quello del linguaggio della violenza, che è un linguaggio sbagliato. Spero che donne contestualmente sempre di più si sentano legittimate a volersi bene, a donarsi, pertanto a denunciare qualsiasi forma di violenza di cui possono diventare vittime. Purtroppo la violenza è un dato di fatto e quindi come tale non si può accettare, non sentitevi colbevoli, siete vittime in questo senso, pertanto esistono dei canali che ci consentono di poter denunciare e di poter far intervenire gli ordini competenti le forze dell'ordine, ricordatevi il 1522 che è un numero attivo 24 ore su 24, chiamate qualora siate vittime di abusi di ogni forma e entità, eventualmente sono tutti in grado di farlo a livello di chiamata, perché purtroppo in una situazione come questa può non essere facile parlare e attiva anche la messaggistica, attiva anche Whatsapp, mandate un messaggio, mandate la vostra posizione e le ordini competenti, le forze dell'ordine sicuramente saranno in grado di intervenire e di mettervi in sicurezza. Quindi alle donne dico in premis questo. Seconda cosa molto importante, quando vi incontro e che mettete sempre gli accenti su ciò che non vi piace di voi, attenzione, riformuliamo la cosa e impariamo a concentrarci su ciò che di noi è bello e può essere valorizzato. Partiamo dalle cose positive, dalle cose che ci piacciono, un bel colore di occhi, un bello sguardo, un bel sorriso che andremo a vestire con un rossetto. Io proprio questa sera ho preparato qua il rossetto rosso che è bellissimo e tu sai che è una forte simbologia. Innanzitutto il rossetto rosso è un trucco iconico nell'immaginario collettivo, no? Quindi già di per sé avere un rossetto rosso è indice di super femminilità. È la stessa cosa come il stiletto, no? La scarpa rossa che tra l'altro è il simbolo, è il simbolo di questa causa contro la violenza sulle donne. Tra l'altro è il nostro marchio, il nostro timbro di Iris è la scarpetta rossa, come ben lo sapete. Quindi nasce così il nostro brand, non è solo moda, non è solo comunicazione, ma ha tutti questi valori, no? Il sostegno specialmente per le donne. Nasce proprio per questo. Volevo solo aggiungere a quello che la Claudia appunto ci sta riferendo su tutti i canali che vi possono dare una mano. Ricordatevi che anche l'associazione Iris fa da sopporto sempre per questa cosa, quindi anche tutti i nostri numeri, tutti i nostri mail, i nostri siti sono a disposizione per questo. Quindi vi ricordo di nuovo la nostra mail della redazione irispress.tv.com a disposizione 24 ore sul 24 per darvi un supporto, un aiuto per informarvi. Perché no? Se ce l'avete anche delle segnalazioni o anche suggestioni, noi sempre a disposizione come al solito. Grazie mille. Grazie a tutti. Denunciate, abbiate amore per voi stesse. Nessuna persona che vi amo può trattarvi male a usare nei vostri confronti violenza. Siate le migliori amiche, le alleate di voi stesse, vogliatevi bene, curatevi, truccatevi, valorizzatevi e andate incontro alla vita. La vita è molto bella, vale la pena di essere vissuta. Cerchiamo dei goodby, come dici tu, delle ragioni per cui uscire da dinamiche sbagliate, riepopiarci nel nostro tempo, della nostra dignità, della nostra bellezza e tornare a splendere. Ricordiamoci questo ragazzi, una giornata così importante che celebra il nostro forte no nei confronti di ogni forma di violenza, nei nostri confronti. Assolutamente no. Assolutamente no alla violenza. Un grande grande abbraccio, un bacio grande. Claudia, grazie di nuovo. Grazie a tutti voi per il vostro seguito e vi diamo l'appuntamento domani perché la nostra giornata contro la violenza sulle donne prosegue anche domani, anzi proprio domani è la giornata ufficiale. L'abbiamo deciso di farlo in due giorni per dare spazio a più invitati e come l'ho detto è una giornata mondiale e quindi avremo veramente dei invitati anche per un discorso diffuso orario anche dall'America, dal Brasile, da tutto il mondo, dalla Russia. Tutti quanti saranno presenti di dare le loro testimonianze. Domani ce l'abbiamo dei invitati molto speciali. Vi do solo così due nomi molto grandi. Il nostro grandissimo Fabio Denunzio, il buon Fabio, la causa del strisciare la notizia e del bulismo contro la violenza. Direi che con Fabio abbiamo fatto tantissime battaglie e domani sarà uno dei nostri grandi invitati. Il nostro grande Carlo Vittorio Giovanelli, il capo ufficio stampa della regione Lombardia, ragazzi, sarà presente con noi per darci la sua testimonianza e ci sono anche novità a riguardo. E non vi dico altro, quindi dovete stare qui sempre nel saluto Iris TV, sempre accanto a voi. Buonasera a tutti, alla prossima, ciao! Buon appetito! Buon appetito! Ciao a tutti! Ciao! 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 Grazie a tutti.